Ragazzi, bentornati in questo nuovo video, dopo dieci anni torno su Formula 1 2013, appena l'ho visto così ho detto devo fare un video assolutamente perché una delle cose che mi aveva veramente colpito di questo gioco sono le formule classiche e soprattutto le modalità scenario che trovo fantastiche. Ho configurato il Camus, rende benissimo ragazzi, si sente tutto, andiamo, gioco di dieci anni, siamo qua per divertirci, c'ha un turbo lag pazzesco, mamma come scivola! Eccole qua, sono uscite dai box in questo momento Qui ci vorrebbe cambio ad hack ragazzi, oh il grande Shumi Mi è partita Mamma mia ragazzi, senti che il sound Il force feed è impressionante ragazzi Devo dire che graficamente tiene basso ancora con i tempi, oh Con questo filtro fotografico Molto caldo Senti sto turbo lag ragazzi, mamma mia Sono cominciati gli ultimi due giri All'esterno Non devi danneggiare la vettura Qua bisogna dosare l'acceleratore ragazzi che parte con una meraviglia, sta scivolando E si inserisce, mamma mia Ok Cioè questo a 72esimo giro mi dice spiggi come un animale, vai staccati E noi che facciamo ragazzi? E spiggiamo Ragazzi devo dire una parolaccia Cazzo quanto è divertente, porca miseria Cioè raga Cazzo è davvero divertente Lo scenario Ma anche il sound Veramente, al passo con i tempi ancora sto gioco Cioè questi erano scenari, il Formula 1 Classic che Veramente mi hanno fatto innamorare di questa serie Che figata, mamma mia Spettacolare Emozionante quasi, cavolo Mamma mia Spettacolo Ah, meno male Pensavo che mi volevo innamorare una Uno schiaffo da boffa